Importanti novità per il Castello dell'Arancia, circa 500.000 euro per l'accessibilità e la digitalizzazione del Museo Civico Archeologico Aristide Gentiloni Silveri. È stata premiata la progettualità tra il Comune di Torrentino e l'Università di Macerata che vedrà il Museo e il Castello sempre più accessibili. Sì, è una bella soddisfazione essere a Torrentino stamattina proprio per marcare questo risultato frutto di una sinergia importante fra l'Ateneo Maceratese e il Comune di Torrentino. Rendere più accessibile, più inclusivo questo museo, che comunque è molto importante per l'intero territorio, è un atto, direi, dovuto e necessario che vedrà, avrà anche secondo me, un effetto anche a livello turistico. Insomma, più accessibile, più alla moda, più digitalizzato sono i nostri musei, più attirano i giovani e questo sarà un risultato importante. Sono contento che insieme con il Comune l'Università ha saputo valorizzare, mettendosi insieme, due dipartimenti, esperti di archeologia, esperti di accessibilità e inclusione, insieme con il Comune per rendere possibile questo progetto che poi ha i tempi molto veloci. Per cui speriamo di vedere i risultati già quest'estate. Per cui un finanziamento e subito a lavoro. Sindaco, importantissima questa collaborazione con l'Università di Macerata che ha portato dei frutti molto importanti con questo progetto che ha ottenuto i finanziamenti e che è stato già avviato. Beh, l'Università è la culla della cultura e parlando di cultura noi qui stiamo sviluppando un progetto insieme a loro, insieme a questo spin-off che ci consente di avere un finanziamento quasi di 500 mila euro. Ci rende possibile la fruizione del nostro museo Gentiloni al Castello dell'Arancia, ma la cosa interessante è che questa sinergia fra Comune e Università porta a un livello superiore. Nel senso che potremmo instaurare un rapporto che nel tempo può ingrandirsi sostanzialmente perché già la location del Castello dell'Arancia come polo museale potrebbe essere veramente il primo granello di un'opera maggiore. Michele Spagnuolo è l'amministratore delegato di Playmark, uno spin-off dell'Università di Macerata che ha il compito proprio di realizzare questo progetto. Spieghiamo in che cosa consiste. Noi ci siamo occupati già della progettazione, fase di sottomissione del bando e ci occuperemo di parte della realizzazione. Cercheremo di rendere sempre più accessibile questo luogo iconico del nostro territorio, della regione Marche, lavorando con la digitalizzazione e con le nuove tecnologie. Quindi andremo a installare servizi ma soprattutto anche nuova segnaletica, pannelli ma anche video, realtà aumentate, realtà virtuali, un'app che permetterà anche agli studenti di fruire e di conoscere il museo con una previsita guidata al Castello dell'Arancia e tutta una serie di azioni che fungeranno proprio per rendere questo nuovo museo sempre più appetibile a chi ha disabilità fisica e cognitive ma per renderlo anche più accessibile a tutti quanti to cure.